Sì, beh, non c'è dubbio che per la coalizione è data bene, per la Lega credo particolarmente, però vi voglio ricordare, perché bisogna essere oggettivi, stiamo parlando di elezioni amministrative. Chi vuole strumentalizzare e dire allora vuol dire che le politiche 5 stelle scompariranno, scommettono un errore e non è anche rispettoso verso quei cittadini che hanno scelto dei sindaci e dei consiglieri comunali. Oggi sarebbe molto facile per un leghista, per il capogruppo della Lega, dire abbiamo stravinto, vinceremo dappertutto, perché ovviamente le cose sono andate bene, però non voglio fare come ha fatto Renzi in passato, tramutare elezioni europee in elezioni per eleggere la maggioranza in Parlamento, perché così non è. Sono elezioni diverse, bisogna avere rispetto prima di tutto dei cittadini che vanno a votare. Per quanto riguarda Renzi, su non andare a votare... Guardi Federica, sul Fatto Quotidiano di oggi, così il suo commento è poi Sanz, mi pare sia il fatto questo, no? Il centrodestra, Berlusconi, Gela, Salvini, mai il partito unico, Toti in pressing per la lista unitaria, dopo il successo del primo turno a Genova, il Cavaliere bipolarismo calma, ma sul carroccio pesa il flop al sud. Cioè a dire siete molto forti in alcune aree del paese, però al sud la Lega, noi con Salvini ancora non c'è. Come risponde a Berlusconi? Beh, intanto devo dire che al sud in alcune aree ovviamente sono situazioni per adesso isolate, però rispetto alle elezioni precedenti la Lega e noi con Salvini hanno cominciato ad attecchire. Noi abbiamo fatto una scelta molto chiara, guardi che quando ne abbiamo lanciato noi con Salvini potevamo prendere di tutto e di più, perché si hanno avvicinato di tutto e di più. Abbiamo scelto di iniziare piano piano senza rischiare di cadere in errore. Lo strada è difficile, non sappiamo se avrà successo, però pensiamo che la nostra offerta politica in questo momento, una scelta politica che non riguarda soltanto sicurezza e migrazione, ma anche autonomia e federalismo, possa rivolgersi anche al centro e al mezzogiorno del paese. Per quanto riguarda il partito unico, noi non vogliamo il partito unico, sia chiaro. Noi però vorremmo tenere insieme questa coalizione e lo si fa, per esempio, con una legge elettorale maggioritaria, perché chi dice che dobbiamo stare insieme e poi vuole il proporzionale puro, non credo voglia stare realmente insieme, a parole vuole stare insieme, di fatto no.